Buonasera a tutti, oggi siamo a Augusta, io sono entrato in Italia da Augusta, se non mi sbaglio 16 febbraio 2014, poi sono stato a Siracusa, oggi posso dire che non mi chiamo 142, il mio nome è Yoron Dao, la giornata è molto importante, parliamo della memoria, c'è tante quantità della memoria, non si finisce, parliamo dell'immigrazione, io avevo deciso di dire che non parlo più dell'immigrazione, perché sono qui da due anni, quando accade il problema dell'immigrazione si ne parla e non si risolve mai, quindi non è facile parlare di parlare davanti alle gente, perché parliamo della memoria, è una cosa già passata, quindi è chiaro che niente è eterno, il caffè si raffredda, le gente si cambia, il fumo si evapora, quindi cerchiamo a lasciare tracci e non cicatrici.